oh ci siete anche voi salve qui il mister sappacento vedete qualche giorno fa mi sono trovato a vedere su internet questo tipo di speed loader per per qualsiasi tipo di caricatore e devo dire che la persona che ha progettato questo questo speed loader deve essere veramente un labo di genio perché a differenza del dell'altro degli altri speed loader per quelle di fabbrica per diciamo tutte tante le altre marche più in vista questo speed loader può alla possibilità diciamo sia di caricare dal calibro 9 al calibro 45 e stiamo parlando di sia di caricatori bifilari che di caricatori monofilari devo dire che appunto provato ieri al poligono e oltre alla possibilità che vi risparmia il vostro pollicione perché con questo dovete sempre pressare e praticamente non vi fate male questo qua a vita la possibilità di schiacciare giù va bene e quindi di fare questo momento vi posso assicurare che è molto ma molto veloce il prezzo varia dai 30 a 35 euro a seconda diciamo del negozio e praticamente vi posso appunto comunque assicurare che è un articolo molto ma molto valido si chiama appunto a plulla e come appunto dicevo prima avete la possibilità di caricare qualsiasi tipo di pericatore dal 9 al 45 e niente vedete avete anche la possibilità di chiuderlo tac così sta nel il vostro range bag senza che appunto viene tenneggiato e oltre questo anche la possibilità non appena diciamo se per caso non doveste utilizzare tutti i proiettili del vostro caricatore anche di scaricare il caricatore stesso vedete così quindi veramente un prodotto eccezionale vi volevo appunto fare partecipi di questo di questo nuovo di questo nuovo prodotto e niente come sempre vi auguro una buona giornata e a risenterci alla prossima grazie